Quattro anni fa noi in Azimut abbiamo cominciato a pensare che in Italia si poteva fare qualche cosa verso la piccola e media impresa. Il progetto che poi tre anni fa abbiamo lanciato, chiamandolo Libera Impresa, era un qualcosa che si proponeva di accompagnare le aziende, che in Italia sono molte quelle piccole e medie, da quando vengono concepite, quindi proprio dalla concezione, l'idea, la start-up fino alla quotazione in borsa. Nel far questo abbiamo avuto la fortuna di impattare con, diciamo, della specie di venture capital, quel poco che esiste in Italia. E, impattando in queste cose, per la prima volta qualcuno ci ha parlato concretamente, quindi non solo di cose strane che avvenivano in altri paesi oltreoceano, di robot advisor. Il nostro progetto, come al solito, è stato molto aperto e molto possibilista. Noi abbiamo preso partecipazioni tramite queste società, una per tutte, siamo soci, dove abbiamo il 20%, che investono in start-up e in cose nuove. E stiamo andando avanti. Qual è la cosa e la considerazione che faccio a tre anni da quando siamo partiti in questo percorso? Non si fanno soldi. Non si fanno soldi vuol dire che i due maggiori esponenti oggi in Italia che lavorano su fintech o cose simili, che sono H-Pharm, appena quotata, e Digital Magics, quindi sono gente molto brava che fa questo mestiere, almeno H-Pharm, da oltre sette anni, hanno chiuso il bilancio in perdita tutti e due lo scorso anno. Ha ragione Alessandro quando dice che gli investitori poi si stufano perché se tu da sette anni fai le cose utili, che servono, che tutti siamo convinti, che aiutano il paese, però poi perdi soldi, qualche cosa dovrai cambiare se vorrai continuare ad avere investitori, quindi dovrai probabilmente alzare i prezzi. Alla fine diciamo che tutta questa cosa qui poi dovrai fare i conti con la realtà, io non continuo ad essere uno di quelli che investe un po' di soldi in questa roba, ma rispetto ai soldi che abbiamo nel gruppo ce ne investiamo pochini. C'è la classica frase che dice vai avanti tu che a me viene da ridere, sono sicuro che prima o poi qualcuno ce la farà ad entrare nel momento giusto. Noi siamo entrati, rimaniamo nella posizione in cui siamo, continuiamo a credere che questo è il futuro, continuiamo a monitorarlo, ma lo consideriamo molto più un modo per essere informati e all'interno di quello che succede piuttosto che un vero e proprio progetto che magari a tre o a cinque anni ci darà dei soldi. Molto collegato a questo e quindi Robo Advisory, FinTech, c'è tutto il discorso sui big data. Qui ho sentito da persone molto competenti che negli Stati Uniti nei prossimi anni serviranno 3-4 milioni di ingegneri esperti in data scientist. Anche qui capisco che la produzione di tutti i dati che oggi si rende possibile grazie a tutta la digitalizzazione non ci permette con il nostro normale cervello e neanche con un foglio Excel o qualunque cosa di utilizzare al meglio questi dati per prendere decisioni. Quindi qui c'è un ampio spazio, ci vorrà il tempo che ci vorrà, questa sicuramente è un qualche cosa che impatterà sul mestiere che facciamo sia come gestori, quindi sia quando investiamo, sia come consulenti finanziari e quindi quando abbiamo a che fare con clienti. Anche qui secondo me c'è tempo, non è una cosa che succede a Romani. Quello che invece gioca molto a vantaggio dei robot advisor è il profilo psicologico dei clienti. La gente della mia età, ma senza scomodare la mia età, la gente che io ero abituato a conoscere durante questi 30 anni che sono nel settore sono persone che quando hanno qualcosa di importante da dire incontrano la persona, la guardano negli occhi, la vogliono vedere. Io vado in giro per le strade e vedo dei ragazzini, li chiamo ragazzini, ma insomma è gente che ha meno di 30 anni come vedevo prima che escono insieme, passeggiano e però si messaggiano qualche volta anche tra di loro. Cioè ormai non riesco ad avere delle riunioni dove la gente non viene richiamata perché parla come succedeva ai miei tempi dove tu parlavi, loro non fanno rumore perché si messaggiano, quindi stanno in riunione però ci sono n riunioni parallele in cui tra di loro si parlano. Questo profilo psicologico di persone che sono non abituate ad affrontare gli altri loro simili ma sono abituate a parlargli attraverso dei device o cose simili, smartphone, sicuramente avranno meno problemi ad affrontare un promotore finanziario e magari preferiranno continuare a avere a che fare con un qualche cosa che non lo costringe. Questa è sicuramente una cosa a cui dovremmo fare i conti, quindi i millennials, le persone giovani che nascono e crescono così e che gli manca questa naturalezza nel parlare con le persone ma sono più abituati ai messaggini, ai whatsapp, a tutte facebook e a tutte quelle robe lì, una parte il robot advisor funzionerà. Concludo, così sto dentro i 5 minuti. Credo che, in questo modo di dire, FIGITAL che è a metà tra il FISIC e il DIGITAL quindi sarà una specie di mezzo uomo e mezzo robot advisor. Sono assolutamente d'accordo con quello che è stato detto prima dei miei colleghi. Noi avremo il risparmio del viaggio. Oggi chi fa il consulente finanziario perde un casino di tempo ad andare a trovare clienti, che sia a casa, che sia in ufficio, è così. Secondo me ce ne faremo una ragione ma fra qualche anno, quindi non decenni, fra qualche anno, ci abitueremo a vedere la gente nel video che poi sia il video del telefonino, del tablet o di un computer, uguale. Sarà sempre l'immagine che si ha con la quale avremo a che fare, sarà sempre più nitida, sempre più reale. Quindi io credo che risparmiando il tempo di andare a trovare il cliente, le attese, tutte quelle cose lì, potremo avere molti più clienti per consulente finanziario, concordo con quanto detto prima, quindi anche se i margini dovessero abbassarsi io questa sera che si abbassano i margini in Italia, 30 anni fa quando sono entrato se ne parlava sono ancora là, ma non solo in Italia e non è vero che noi in Italia siamo i più cari di tutti perché se così fosse i clienti americani sarebbero più ricchi dei nostri. Siccome non è così e le performance sono sempre le stesse, vuol dire che magari noi facciamo pagare le commissioni di gestione e le commissioni di performance, loro fanno pagare molto di più gli IPO, le commissioni di broker, le altre commissioni, ma alla fine il cliente negli Stati Uniti paga più o meno quello che paga in Italia a parità di servizio. Quindi anche qui favole che non ci perdo neanche tempo a parlarne, credo che la nostra professione la faremo aiutati da supporti digitali, evitandoci gli spostamenti e con un gran lavoro a contatto a distanza, i big data saranno qualche cosa che ci aiuterà sia negli investimenti che verso il cliente e direi che per il resto buona fortuna, nel senso che solo quelli che si parlano così, quelli là sicuramente con i robot advisor si troveranno più a loro agio che con un essere umano, ma là è una questione sociologica, alzo le mani. Grazie.